Entra sempre più nel vivo il dibattito sull'introduzione di un passaporto vaccinale per potersi muovere liberamente in Europa. La proposta, formulata dalla Grecia, è stata accolta con favore dalle presidente del Consiglio europeo Michel, che ne discuterà con i leader dei 27 giovedì prossimo in videoconferenza. L'idea di un certificato europeo per le persone vaccinate è stata lanciata dal premier greco per ridare ossigeno al turismo. Il dibattito è molto pertinente perché tiene alta l'attenzione sulla campagna vaccinale che resta la priorità assoluta, ha sottolineato Michel, senza comunque nascondere le difficoltà. Un passaporto del genere infatti potrebbe essere visto come uno strumento per rendere i vaccini obbligatori, mentre molti paesi vogliono mantenere la volontarietà, ha rilevato il leader belga. Al dibattito sulle passaporto dei vaccini non parteciperà la Gran Bretagna, ormai fuori dall'Unione Europea. L'isola in questo momento è più blindata che mai, dopo lo stop ai collegamenti con Portogallo e Sudamerica per paura della variante brasiliana e l'imposizione di test anti-covid per i passeggeri in arrivo dagli altri paesi. Anche l'Austria, come Germania e Olanda, ha prolungato il lockdown nazionale fino al 7 febbraio. Il cancelliere Kurz ha imposto ulteriori restrizioni, l'uso di mascherine FFP2 nei negozi e sui mezzi pubblici e l'aumento a due metri del distanziamento.